buonasera buongiorno buonanotte buon pomeriggio a tutti a tutti gli amici di amici di ma che cazzo sto a dire lo zoo di football ragazzi ragazzi ma inca ragazzi sto scioccato ragazzi sono sveglio da stamattina alle 5 meno 10 sono le 19 25 non posso fare un cazzo più che altro portare un contenuto veloce dopo lo schifo di ieri saluto tutti quello dello zoo di football ragazzi gruppo facebook il link in descrizione sto registrando registrando senza microfono sto registrando direttamente col joypad la mia voce si interla facciamo solo una cosa veloce giusto per vedere se c'è qualche cambiamento rispetto al vomito di ieri al vomito di ieri anche qua la bomba andiamo la prende la porta di per riso tenete premuto il quadrato fisso senza toglie ragazzi non prende niente un punto fa la prova funzione ok allora grazie ieri poi feci delle prove non sto giocando niente offline online niente ragazzi feci delle prove e sto giocando così adesso devo usare tre quartista usi tre quartista devo usare le sp uso anche se questo fa le no allora aspettate facciamo così ok la p questo sp e fa la sp così basta ragazzi vogliamo stringere un po stringiamo un po stiamo un po questi anche ma vogliono lasciare default come si dice default così non mi interessa nulla una formazione cioè proprio il 4 2 1 3 basta spostamenti difensivo su rodri no difensivo su corso mettiamo offensivo su netbet contropiede e contropiede basta ragazzi non mi interessa qualcosina è uscita perché a me siamo ritornati dal punto al punto di partenza mille se qualche cosa uno schifo mille se è bene ecco mi ricorda solo una sconfitta ragazzi uno schifo un vomito un vomito quindi ne facciamo solo una oggi e poi domani pomeriggio tentiamo la stazione di uno senza dormire ma dubito adesso solo una ragazzi una secca e vai possiamo anche già pre perderla quittarla e vi saluto ragazzi quindi niente ragazzi se volete mettete se vi va mettete mi piace ragazzi per youtube è molto fondamentale se vi va commentate i commenti del video di ieri ragazzi l'ho letto ma a qualcuno non ho risposto ancora non ho messo ancora il mi piace il cuoricino abbiate fede oggi nel letto mi metto e lo faccio questo sta sopra di me come grazie a tutti ragazzi grazie 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 anche perché si sta iscrivendo da poco si è iscritto da poco vedete quante puttana ti sto dicendo ricorda o ecco qua ragazzi vuoto agli albertini volevo portare qualcosa di niente ragazzi va così non mi interessa oddio possiamo provare a metterne lui ma facciamo così quindi offensivo ma niente ragazzi lasciamo così non mi interessa lascio il mondo con me pratica secondaria ragazzi non me ne fotti un cazzo lascio il mondo con me anche qui vaffanculo alla secondaria la salta uno e due destro l'uno ministro l'uno corta l'uno lunga capitano becca in bordo no ho sbagliato io ragazzi è lì sì lunga l'uno corta l'uno proviamo a vedere come va se giro ragazzi mi sono rotti i coglioni se dovessi vince se dovessi perdere è inutile domani anche fare un cazzo ragazzi ho fatto tardi ragazzi ho fatto dei servizi sono andato a prendere degli esami della bambina sta meglio è migliorata grazie al cielo però migliora uno e peggiore un altro vabbè non vi dico altro ne chi e ne perchè cosi poi qualcuno di centina con di troppi cazzicoli avete ragione vuole vedere se sta formazione di meta gira sto schema gira non ma guardate non gliela tolgo non gliela tolgo devo prendere gol porca troia devo prendere gol è scritto sto gioco è scritto già in partenza colpito vabbè questo fa che cazzo vuole io non riesco a fare ma perché io non riesco ma guardate come cazzo gli volano io continuo a fare vedere ancora ma avete ragione vabbè ah non è fallo là va bene ma dove cazzo va rodri ma è il tramone ma è ma è il tramone ma è ragazzi ripeto nel momento in cui metteranno un allenatore bustato o non bustato sull'88 si va a prendere ragazzi con due piedi veloce è troppo sbilanciato per me ragazzi sì ma guarda ah i passaggi devo cambiare vetraggio scusate devo cambiare il passaggio ragazzi basta a livello 1 io vado meglio il 2 per me ragazzi inutile troppo cpu stai fuori tu stai come fuori fuori ma dai ma qua fuori fuori il gioco e di chi ma va a fanculo nico ma che cazzo ho fatto qua e questo mette pausa madonna mia e vediamo a specchio quasi l'ora a noi a potere stra offensivo ma perché non giochi Cristo Santo ma perché non giochi volevo ribadire un concetto fondamentale non ve la prendete se vi sto gastimando mentre stiamo giocando non ve la prendete sul personale ve lo chiedo per cortesia a me finisce tutto lì ripeto se qualcuno lo conosco neanche mi permette di dire l'ho spiegato cento volte ma qualcuno non l'ha ancora capito per favore ve lo chiedo non vi offendete per favore ve lo chiedo che cosa fa che non ha fatto niente durante la pausa guarda ma ricordo come la prendo non ne fanno no raga non ci credo ecco la finta bellissimo il portiere non l'ho fatta apposta io non so neanche io cosa ho schiacciato niente non riesco a ripartire gol è gol è gol è gol è gol è messo pausa mi spiega il motivo è gioco di merda è assurdo tu se non corri non puoi giocare a calcio questa è la verità guarda la palla indietro guarda 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 dove va per te vista la gara va bene con la mandiamo avanti così con amico andiamo avanti così andiamo avanti così andiamo avanti così voglio che schifo il sbato ha fatto che ti importa che non colpa bella non vuole parlare non vuole parlare non vuole parlare sta già addosso guarda mi sta già addosso mi sta già addosso ma non è normale non è concepibile una cosa del genere guarda c'è lui va piano perché soltanto non la prendo io mi sta venendo quel di quittà poi non avete idea veramente mi sta venendo quel di quittà questo poiché se lo offendo poiché se lo offendo poiché poiché se lo offendo poiché se lo offendo ma che fa mi ha buttato i coglioni poiché se lo offendo mi ha rotto già i coglioni cioè non ti offendi mi ha rotto già i coglioni me l'hai proprio rotto tre quarti sta a camarino ragazzi io lo sto guardando tutti ho scopo beh forse sta facendo i cambi no non ha fatti i cambi vabbè ma com'è fatto a calinotto questo u eh sì vabbè va nessuno mi nessuno mi è là nessuno mi è là è una muerta davanti ma guarda accanto cazzo fa schifo i vermi niente e va a lui la palla oh ma ne vanno a tanto può finire a me la palla da molto da mamma gioco di merda niente ragazzi tutti a lui vanno eh vabbè vabbè dai e babbo ma guarda no ci credo la vada fidati fidatevi fidatevi che schifo di gioco niente vado mi ha fatto guarda con chi cazzo non devo vincere io che vergogna che vergogna eh sì eh nooo 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 Grazie. 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 Raga, tu non ti puoi stoppare, non ti puoi fermare. Ma guarda... Non ci ho parlato. Per chi fa due partite massime al giorno. È improponibile. Possiamo fare come dati infognati, che si fanno 10-20 partite al giorno per arrivare in Dio. La verità è questa. Questa è la divisione 3 massima, la divisione 2 massima è arrivata. Fidate, guardate. Guardate, guardate, guardate. Ma di che cazzo stiamo parlando? Questa è una squadra. Quattro punti. E' questo qui. le boragini proprio c'ho qua raga non ne fallo là non ne fallo là non ne fallo là ma perchè va in tona difesa ragazzi me lo spiega due sviluppi ho al centro c'ho qua raga non voglio farmi la borsi ma perchè mi mezza tu hai c'è un culo di merda non ne fallo là non ne fallo là guardate come street stiletto guardate patinato giù sul ghiaccio poi è subito a sedi il carattic di scioglio non è rigo no vabbè da raga no vabbè da raga ma è la dallo e mo si fa un'altra mezz'ora sta testa di cazzo non ha portato video ora non l'ho fermo vabbè non saltano bene ora avanti non voglio commentare più commentate voi io non so che dire 1-2 passaggio 1 passaggio 2 guarda come ha dato la palla guarda c'è più da commentare raga non c'è ma mi sta prendo proprio il culo questo madonna sento esении il passaggio il 어가 uerda quest'foot sanno passaggio e va bene niente ragazzo, va bene dai non salta questo sa, sa va bene va bene va bene va bene va bene va bene non porto un cazzo domani raga, non vale la pena non vale la pena non vale la pena vai neanche un filtrante faccio raga ma vi rendete con di quello che sto assistendo come ah vabbè cazzo ah 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 e questo è altro raga non so, ho più di tramaura vabbè vabbè raga che cazzo che le può dire vabbè dove gioca? se va a produire un cambio di jugadores che cazzo ma perché non 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 guarda, non mi sento mai tu, più rarazzino, non mi è proprio quello la prendi tutte le sostanze rimone a vento spero non sia italiano la prendi un po' ma perchè non gira come si fa a fare il tiro a giro potente 4 metri di altezza la prende una nooo madonna mia madonna è incredibile ma quanti secondi hai figlio mio ma quanti secondi hai ma mi hai rotti coglioni mia e va a finire lì e dai l'unico però vado l'unico Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.